Prendiamo un quadro, per esempio questo. Questo quadro io potrei vederlo in un qualsiasi mercatino dell'antiquariato, messo magari a 20 euro, 30 euro, e potrei rimanere indifferente adesso, non mi interessa, non provo nessun desiderio di possedere questa cosa, non mi cambia la vita, non ho attrazione per questo oggetto. Ma pensiamo che magari questo quadro lo vedo in una galleria d'arte, con una firma importante, c'è scritto Ciardi in questo caso, ma mettiamo che lo trovo a 10.000 euro. A questo punto forse questo quadro comincerebbe a interessarmi, potrei cominciare a desiderare a possedere questo quadro. L'oggetto è lo stesso, ma se lo vedo esposto in una galleria d'arte, con un nome che mi dice qualcosa, presentato bene all'interno di un catalogo, e quindi percepisco che questo quadro è desiderato anche da altri, è una cosa importante anche per gli altri, a questo punto questo quadro comincerei a desiderarlo. Vorrei farlo mio. Perché? Perché immagino che questo quadro abbia un valore, e qual è il valore? È dato dal prezzo in questo caso, ma il prezzo esprime anche l'importanza che questo quadro ha per altri che desiderano questo quadro. E questi altri chi sono? Sono persone che possono permettersi di spendere 10.000 euro per un quadro, e che quindi si possono portare a casa a questo quadro, e questo quadro rappresenta per loro uno status symbol. Lo possono mostrare agli amici, vedete? Come sono bravo, come sono importante, come sono intenditore d'arte. Ho comprato un quadro che vale 10.000 euro, e sarò a casa. Come sono bello. E questo fa sì che io desideri, anch'io, questo quadro. Ma non perché questo quadro ha in sé un valore come oggetto, come cosa, per me. Perché quando lo vedo magari in mercatino, nella roba vecchia, non ci farei caso, non lo comprerei, lo lascerei lì, anche se costa 30 euro. O forse proprio perché costa 30 euro, non lo desidero, è una cosa che non vale niente. Ma è lo stesso. Quando invece lo vedo in una galleria d'arte, presentata in un certo modo, dal quale capisco che molti altri desiderano questa cosa, lo vorrebbero avere, magari l'avranno, e con questo quadro diventeranno prestigiosi a livello sociale, allora anch'io comincerò a desiderare. Il desiderio di una cosa, di un oggetto, è tale spesso perché è desiderato da un altro, non è il valore in sé, ma è il desiderio che gli altri provano per quell'oggetto che fa sì che io provi soddisfazione nel cercare di possedere l'oggetto, soprattutto quando l'altro non riesce a possederlo. Insomma, entrerò in competitività. Succede spesso, che magari lo vedete nelle aste, che quando il battitore d'asta procede a battere un oggetto, all'inizio nessuno lo vuole e quindi magari viene messo da parte. Dopo lo riprende. Basta che uno faccia un'offerta e poi vedete come il prezzo va su, immediatamente scattano anche le offerte degli altri. Si entra in un meccanismo competitivo, più anche gli altri lo desiderano, più anch'io lo desidero. E questo meccanismo è fatto un po' anche di invidia e di gelosia. Insomma, desideriamo di meno l'oggetto di quanto invece invidiamo la persona che possiede o che vorrebbe possedere l'oggetto. Poi quando ce l'abbiamo, questo oggetto, in realtà si rende felizi? No. La soddisfazione del possesso dell'oggetto avviene proprio perché è desiderato da altri, ma nel momento in cui l'abbiamo, immediatamente perde la sua importanza. Questa competitività fa sì che spesso desideriamo che l'altro non possieda l'oggetto, più che non la soddisfazione che potremmo avere noi dal possedere l'oggetto. La pubblicità evidentemente sfrutta queste cose. Nel senso che spesso quando ci propone qualcosa da comprare, quando vediamo i biscotti del mulino bianco, vediamo una famiglia felice perché mangia i biscotti del mulino bianco e quindi noi non desideriamo tanto il biscotto del mulino bianco quanto quella felicità, quanto quel nucleo familiare così, che ci illude che sarà anche nostro nel momento in cui mangeremo quel biscotto. e così per tante altre cose, no? L'automobile, quando vediamo la grande automobile, la donna super figa che si mette accanto all'automobile, il nostro trasferimento simbolico immediatamente si si convince che se possediamo quell'oggetto in realtà riusciremo a possedere anche quella donna. Nel momento in cui invece avremmo l'oggetto saremmo profondamente delusi, non sarà immediatamente più interessante per noi quell'oggetto quindi non ha fascino perché tale, perché va veloce, perché... ma ha fascino perché rappresenta uno status symbol quindi più che non avere desideriamo essere tramite l'avere, possedere qualcosa per essere a livello sociale quello che non siamo e che desideriamo essere. Spesso desideriamo qualcosa ma non sappiamo cosa, non sappiamo cosa ci può dare la felicità, la soddisfazione, il benessere, ci fa star bene. Spesso in questa situazione vediamo un altro che desidera e che sta bene con qualcosa e pensiamo che avendo questo qualcosa che a noi sentiamo mancare staremo bene. Cioè incontriamo un altro che ha quello che pensiamo che ci manchi che sentiamo mancarsi anche se non sappiamo bene cos'è che ci manca. Pensiamo che l'oggetto che l'altro possieda ci dia quella pienezza che non abbiamo. Tu che hai quel telefonino sei così felice ti vedo che traffichi in continuazione con il tuo telefonino sei tutto concentrato così e allora cos'hai più di me da essere o da sembrare così felice? E allora in qualche modo ti ammiro perché vedo che tu sai essere felice hai quello strumento e sei felice ti invidio sei un modello un modello che ammiro e nello stesso tempo però nel momento in cui nasce una una invidia da parte mia nasce anche un certo disprezzo nei tuoi confronti se io non ho quello che tu hai il telefonino mi sento nei tuoi confronti inferiore e questo senso di inferiorità che mi provoca un po' un'invidia perché tu hai quello che io non ho mi tende a provare disprezzo per quello che si invidia buttarlo giù squalificarlo denigrarlo sì ma è quella cosa ma perché sei più fortunato potrei farlo anch'io adesso se mi metto ti riesco anch'io no nel momento in cui io mi disprezzo perché non mi sento felice e non ho quello che mi sembra che renda felice te bene questo disprezzo che io provo per me stesso tendo poi a proiettarlo nell'altro che ha questo oggetto cosa per essere più di me allora cerco di avere anch'io quella cosa e cerco di diventare uguale a lui nell'oggetto che lui ha io riverso una mia carica libidinale una carica di desiderio voglio avere anch'io quella cosa e voglio avere anch'io quella cosa per essere come te come lui che mi sembra più felice di me e perché se ho anch'io quella cosa quel quadro che ho visto nella galleria che vale 10.000 euro anch'io sarò importante mi invideranno sarò considerato dal punto di vista sociale e quindi è questo oggetto trasfigurato dal desiderio dell'altro che lo desidera che acquista un valore anche per me valore che invece altrimenti non avrebbe nello stesso tempo diciamo così anche l'altro che possiede l'oggetto avrà bisogno per essere confermato nel suo valore di sentire che anch'io competo per quell'oggetto che anch'io lo desidero perché se lui sente che anch'io desidero quel quadro che tanti altri desiderano quel quadro che lui ha finalmente comprato in quella galleria famosa e ha pagato tanto allora si sente anche confermato nella sua scelta si sente gratificato perché ha speso bene quei 10.000 euro per comprare quel quadro anche se una volta che ha a casa non lo guarda mai ma sa che altri lo invidiano perché lui ha quel quadro che gli altri non hanno quindi si sente importante nello stesso tempo vede degli altri che desiderano quel quadro anche come dei rivali se anche gli altri riuscissero ad avere quel quadro e quindi tutti quanti avessero dei quadri come i suoi il suo prestigio verrebbe a diminuire cioè lui tenderebbe a diventare uguale agli altri non come quello che invece ha una cosa che gli altri non si possono permettere se anche gli altri avessero la sua cosa il suo quadro diventerebbe né più né meno che come gli altri la sua distanza sociale a livello sociale come gradino sociale come ricchezza come prestigio come posizione come ruolo sociale verrebbe a diminuire si determina in lui una contraddizione cioè gli va bene che gli altri desiderino quello che ha lui perché lo fa sentire importante ma se allo stesso tempo gli altri raggiungessero avessero anche loro quello che ha lui lui perderebbe questa possibilità di differenziarsi dagli altri cioè verrebbe ad eliminarsi quello che lo distingue dagli altri e quindi questo desiderio determina di per sé una rivalità se tutti quanti si diventasse uguali ci sarebbe il pericolo di un'abolizione tra queste differenze appunto di tipo sociale tra le relazioni che si instaurano tra gli uomini e quindi un pericolo di confusione vengono abolite queste differenze ma noi siamo gelosi di queste differenze perché queste differenze secondo René Girard sono un qualcosa che viene creato permanentemente cioè il mantenimento di queste differenze è un qualcosa che che avviene naturalmente e che dà un certo ordine alla convivenza sociale permette a ciascuno di stare al proprio posto e permette di creare un sistema differenziato all'interno del quale le gerarchie determinano poi i vari livelli Girard pensa a un mondo differenzialista un sistema differenzialista perché di fronte all'identico invece si pone o si è sempre posto nelle società la necessità del distinguere c'è sempre stato il desiderio di trovare cosa che ti rende particolare e diverso rispetto agli altri è una contraddizione sempre presente perché i gemelli cerca sempre di trovare il punto discriminante perché nell'uguaglianza totale c'è confusione bene quindi questo desiderio mimetico questo desiderio di possedere qualcosa non per il valore intrinseco dell'oggetto ma perché altri desiderano l'oggetto e quindi noi desideriamo il desiderio degli altri o l'oggetto del desiderio degli altri e poi nel momento in cui l'abbiamo questa cosa perde di valore tende ad abolire queste differenze che invece sono o sono state fondamentali nello sviluppo della società un po' in tutte le epoche e allora la contraddizione sia nel soggetto desiderante che invidia l'altro che possiede dell'oggetto che vorrebbe lo ammira perché lo possiede ma nello stesso tempo lo invidia perché anche lui vorrebbe avere e cosa ha in più l'altro per avere quello che lui non ha ma anche l'altro termine della contraddizione colui che possiede l'oggetto si trova in una situazione di ambiguità gli piace essere oggetto dell'ammirazione dell'altro e quindi essere invidiato perché questo lo fa sentire importante vi conferma nella scelta che ha fatto nella bontà del possesso di quell'oggetto ma nello stesso tempo prova rancore o si difende dall'altro perché sa che se l'altro riuscisse ad avere quello che ha lui non ci sarebbe più differenza tra lui e l'altro sentimenti ambivalenti contrastanti la cosa importante però insomma è che il desiderio come dice anche Recaicati insomma fin dai bambini che è qualcosa così importante poi nella psicanalisi moderna lacaniana perché poi questa teoria del desiderio mimetico viene ripresa dalla psicanalisi di Lacan no? è una cosa così determinante per il nostro benessere psichico insomma la capacità di desiderare la capacità di desiderare la formazione del desiderio è un qualcosa che è sempre ambivalente ma che è importante capire quello che è importante capire è che fino al bambino piccolo e l'esempio che ne fa poi Recaicati è quello dei bambini che messi insieme giocano con lo stesso giocattolo ma ogni bambino non gioca con il suo giocattolo vuole il giocattolo uguale al suo con cui gioca l'altro e nel momento in cui ce l'ha non sa poi cosa farsene quindi desiderio non per l'oggetto grezzo in sé ma desiderio per l'oggetto che è desiderato dall'altro questo è un concetto importante com'è importante sapere che il desiderio per l'oggetto nel momento in cui l'abbiamo spesso perde di valore l'oggetto in sé non è qualcosa che ci dà felicità quello che dà felicità o che potrebbe dare felicità è la relazione cioè è capire nell'altro un desiderio che non sia indirizzato all'oggetto ma che è indirizzato a un qualcosa che porta ad ampliare il proprio spazio di vita cioè un desiderio che si estrinseca verso come energia per la propria realizzazione quindi per i propri rapporti umani quindi per per aprirsi rispetto al mondo quindi è un desiderio fatto di relazioni non di proprietà non di proprietà di cose e anche in questo caso il desiderio come tale è un qualcosa di ambivalente è un qualcosa che ci può chiudere il mondo quando ci ci rivolgiamo all'oggetto in sé alla cosa di cui spesso magari non non abbiamo bisogno e di cui ci riempiamo mentre è importante arrivare a saper desiderare cioè arrivarsi al mondo con la capacità di di avere un un destino da realizzare una passione che ci prende un interesse che che assorbe le nostre energie e che ci apre al mondo